Ciao YouTube, io sono Hathor, faccio video amatoriali di storie reali che mi hanno fatto venire i brividi o la malinco noia. Da Anasciaprandi al Baffo, che fin hanno fatto le vecchie glorie delle tv locali? Il 4K ed internet li hanno messi da parte, ma fino a 30 anni fa dominavano la scena televisiva che andava oltre i canali nazionali. Se qualcuno dice tv locali dei tempi passati, la mente va a righe ondulate e sfarfallio, quei silenzi riempiti dal solito ronzio sordo e continuato. Le carte, i tappeti, i quadri, persino gli amuleti e ancora venditori, maghi e ciambellani di ogni sorta. Questo era il magico mondo alternativo degli anni 80 e 90. I temerari che davanti al televisore riuscivano a scavallare i canali nazionali scoprivano di avere nel telecomando la chiave per entrare in mondi fantastici. Una specie di narnia dall'inflessione familiare in cui si poteva acquistare qualsiasi cosa o addirittura conoscere il proprio futuro. Si fa partire. A popolare questi canali personaggi dei tratti quasi epici, ognuno con caratteristiche ben precise, ma che sono stati spazzati quasi totalmente via dal 4K, Netflix e in alcuni casi direttamente dalla Guardia di Finanza. Ecco che fine hanno fatto. Ma prima, sigla! Se tutti sappiamo che fine hanno fatto più o meno personaggi come il divino Thelma e Vanna Marchi, a cui fra l'altro fu dedicata a una serie Netflix proprio qualche tempo fa, si conosce un po' meno il destino dei loro colleghi. Il più illustre è Roberto da Crema, a cui spetta l'onore e l'onere di aprire questo viaggio. Tra i più noti televenditori dell'epoca fu soprannominato il Baffo, inevitabilmente per i folti mustacchi che aveva sotto il naso. Altra sua caratteristica era la voce roca segnata asmatica, con cui era in grado di aspirare letteralmente anche il telespettatore. Fece la fortuna di molti emittenti, vendendo di tutto grazie al suo fare tarantolato. Diventa così un'icona pop, con anche un film sulla sua vita. Agli inizi degli anni 2000 ha avuto diversi problemi finanziari e nel 2003 fu anche arrestato. Tuttavia, la sua cara TV lo ha riportato davanti alle telecamere. Dopo aver partecipato ad alcuni reality, infatti, continua ad essere ancora oggi ospite in diversi programmi televisivi RAI e Mediaset. Ad aprire invece la sezione Maghi e Cartomanti c'è Nicoletta Paciaroni, nata nel 1955 in provincia di Macerata, con il nome di Fabio Ciambotti. Dopo una breve esperienza nel mondo dell'hard, inizia con un uomo una relazione travagliata che la porterà a spendere una fortuna, proprio cercando conforto nei maghi dell'amore in TV. A cavallo degli anni 90 decide di entrare proprio in quel campo. In breve tempo conquista le reti del Triveneto, dove si era trasferita anni prima, e decide di diventare la migliore sulla sua piazza. Il suo successo è dovuto ai toni scorbuttici che utilizza soprattutto con le sue clienti. Le sigle delle sue trasmissioni erano piuttosto alienanti. Spesso, infatti, Paciaroni si divertiva a esibirsi in balletti sexy o in cortometraggi in cui era protagonista in contesti dal lusso sfrenato. Negli ultimi tempi sui suoi canali social è tornata a far parlare di sé per alcune opinioni controverse. Pier, la sultana al secolo Pietro Imperato, era una cartomante televisiva attiva sin dalla metà degli anni 90, nelle TV private del Lazio. Le sue trasmissioni erano particolarmente grottesche, sia per il linguaggio scurrile utilizzato dalla cartomante, sia per gli sfondi che si alternavano alle sue spalle. Oltre a questo, sul suo tavolo c'erano davvero di tutto, come si può vedere nel video. È venuta a mancare l'anno scorso, all'età di 66 anni. Cartomante, paragnosta sensitiva di Antenna 3. Dopo una vita passata davanti alle telecamere, fra Milano e Monte Carlo, nasce a Prandi e è morta nel 2017. Tuttavia, la sua memoria è ancora molto viva. Solo pochi mesi fa, infatti, i suoi video sono tornati virali su TikTok. Il motivo? Basta riascoltare una delle sue mitiche telefonate in TV. Un mito assoluto. Tornando al settore vendite, non si può fare a meno di parlare di Walter Carbone, altro pezzo da 90 di quel mondo. Mose i suoi primi passi lavorando come gallerista d'arte in una casa d'aste. Come avvenne per altri, fu quasi naturale il passaggio alla televisione negli anni 70. Inizialmente Carbone approdò su TV7 Triveneta, poi il passaggio negli anni 80 RTA. Il suo spazio delle televendite, come spesso avveniva all'epoca, diventava una sorta di show con ospiti talvolta importanti, come per esempio Nilla Pizzi. Successivamente ottenne le luci della ribalta grazie alla sua collaborazione con il mobilificio Agiazzone. A proposito di Agiazzone, il volto del celebre mobilificio che costruì un impero grazie ai prezzi stracciati e a una pubblicità insistente era quello del mitico Guido Angeli, altro re delle televendite e primo testimonial del marchio biellese. Fu lui a pronunciare tormentone, provare per credere. Angeli, morto nel 2008, inizia la sua collaborazione con Rete A nel 1983. Il suo spazio era dedicato a una rubrica in cui parlava dell'oroscopo. Due anni più tardi presentava una trasmissione titolata Accendi un'amica. L'incontro con Giorgia Agiazzone lo portò non solo a diventare il volto del marchio. Fu girato anche un film dal titolo Provare per credere, con Angeli protagonista, insieme a Pamela Prati. Divenne ben presto un volto parodiato e amato e anche dopo diversi anni da quell'incredibile successo tornò come ospite in diverse trasmissioni come quelli che il calcio, meteore o sembra ieri. Ed è proprio in tv che annuncia il suo ritiro dalle scene due anni prima di morire. Lo fece in un'intervista nel programma di Canale 5 Matrix. Altro personaggio proveniente dal mondo dell'arte è Francesco Boni, conosciuto anche come Franco. Fu una delle colonne di telemarket agli inizi degli anni Ottanta. Le sue televendite erano caratterizzate dalla sua indimenticabile remoscia e da uno stile sempre euforico. Le sue doti nelle vendite dei quadri vennero adocchiate anche da Corrado Cuzzanti, che lo prese a modello per ideare il personaggio del televenditore, apprezzato nel programma L'Ottavo Nano. A telemarket c'era anche Alessandro Orlando. Oggi lo vedete in qualche meme qua e là tra TikTok e Twitter. Ma anche lui fu lanciato dalla rete commerciale celebre negli anni 90. Grazie al suo eloquio forbito è stato protagonista di vendite incredibili in quel periodo grazie ai suoi gesti plateali. Lanciava piatti d'argento, si tuffava a terra e abbracciava le statue che vendeva. Nella formazione dei televenditori di successo non possiamo non considerare Roberto Artigiani. Impeccabile nella sua presenza e nella parlantina, Artigiani si è specializzato nel tempo in attrezzi tecnologici. Questo è tutto, se volete supportare il canale iscrivetevi e mettete un pollice in su. Kiss kiss! g Grazie a tutti